L'argomento di oggi sono le porte EXOR Le porte EXOR sono molto semplici come tutte le altre hanno due ingressi e un'uscita e si comportano come dei semplici sommatori binari vediamo qualche dettaglio in più Esistono altri tipi di porte una di queste è la EXOR La porta EXOR ha un simbolo fatto in questo modo ha sempre due ingressi e un'uscita EXOR sta per OR esclusivo EXCLUSIVE OR La tavola della verità è questa ingressi 0,1,0,1 0,0,1,1 l'EXOR praticamente è un sommatore binario quindi faccio 0 più 1 in binario fa 1 1 più 0 fa 1 0 più 0 fa 0 1 più 1 fa in binario 10 quindi metto 0 e il riporto lo perdo l'EXOR è molto più difficile da simulare utilizzando i diodi quindi non lo facciamo come esercizio anche per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto ci vediamo domani ciao 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 ciao